Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata, si è appena conclusa la undicesima e penultima tappa della Dakar 2020. In questa tappa è successo qualcosa di clamoroso e sono tornati in gioco tanti piloti per poter vincere la Dakar che terminerà con la dodicesima tappa di domani e per cui si decreterà il vincitore della gara. Ma andiamo per gradi. La tappa iniziava da Shubaita e finiva ad Harad. Tutta la gara era lunga 744 chilometri di cui 379 erano di speciale. Il dislivello era praticamente minimo perché si correva sul livello del mare. 55% sabbia, 35% dune, per cui il percorso era particolarmente difficile non solo per quanto riguarda poi la guida della moto ma anche per quanto riguarda poi l'affidabilità del motore perché è sotto sforzo. La tappa è stata vinta dal cileno Pablo Quintanilla della Husqvarna che è praticamente partito all'attacco e ci è rimasto per tutta la gara e ha concluso la tappa in 4 ore 9 minuti e 22 secondi. L'unico che è riuscito a tenerlo è l'austriaco Matthias Wokner su KTM che è arrivato praticamente insieme a 9 secondi da Quintanilla. Poi terzo è arrivato Luciano Benavides, l'argentino della KTM a 2 minuti e 48, quarto Corneco Florimo del Cile su Honda a 2 minuti e 53 e poi il nostro Toby Price, l'australiano della KTM a 5 minuti e 49 secondi. Poi qui abbiamo una nuova, una new entry, è la sua prima, la sua prima Dakar è la prima volta che in questa, in questa Dakar arriva nei primi dieci è arrivato sesto Jimmy McCunney che è inglese, vive nell'isola di Manne per cui è un isolano ed ha 25 anni, corre per la Yamaha è arrivato a 6 minuti e 22 secondi per cui noi gli facciamo i nostri complimenti e insomma penso che lo sentiremo ancora parlare di lui perché ha solo 25 anni. Settimo Franco Caimi, 7 minuti e 5 secondi sempre con Yamaha Andrew Short su Squarna, 8 minuti e 11 secondi, ottavo Kevin Benavides su Honda, 8 minuti e 48 secondi e poi è arrivato il nostro Ricky Brabeck che praticamente oggi è sempre stato in affanno a rincorso ma Pablo Quintanile checkpoint dopo checkpoint lo distanziava sempre di più fino ad arrivare con un ritardo di 11 minuti e 48 secondi per cui alla fine Brabeck ha perso metà del suo vantaggio. Ecco andiamo a vedere ora la classifica generale che vede al comando sempre Ricky Brabeck, lo statunitense con un vantaggio di 13 minuti e 56 secondi da Pablo Quintanilla, il cileno della della Husqvarna ecco 13 minuti e 56 secondi insomma sono considerevoli ma potrebbe essere tutto potrebbe essere messo in gioco ecco non sappiamo quello che succederà nella prossima tappa terzo abbiamo Toby Price che invece lo segue a 22 minuti e 34 tutto può succedere attenzione però 22 minuti e 34 secondi non sono pochi come vantaggio però poi tutto può succedere si può rompere un motore, si può cadere ci possono essere mille incognite che ci tengono con il fiato sorpreso poi abbiamo Mattias Wokner l'austriaco a 29 minuti e 53 secondi e Corneco Florimo a 32 minuti e 36 secondi questi sono i primi 5, le prime 5 della classifica generale ecco intanto vorrei spendere due parole per la dodicesima tappa e ultima tappa che si avrà domani per cui domani avremo finalmente un vincitore di questa gara che è la più importante di tutte le gare dei ride mondiali insomma ecco di lunga percorrenza che andrà da Harad a Quidia penso insomma spero di averlo pronunciato bene saranno 262 chilometri di trasferimento e 167 chilometri di speciale ci sarà un 35% di sabbia, 10% di dune, 3% di pietra, 22% terra, 30% di asfalto per cui qui ancora è tutto aperto staremo a vedere domani chi prenderà il comando, chi vincerà finalmente domani ci sarà un vincitore della Dakar 2020 a questo punto vi saluto se vi è piaciuto questo video mettete un like come sempre se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale noi ci vediamo domani alla prossima puntata ciao a tutti